Dai Sernicola, dai Sernicola, dai Sernicola, dai Sernicola, forza cremo, siamo ancora vivi Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi torno dopo 3 settimane di pausa dove comunque sono stato ancora molto impegnato, mi scuso con voi Tenterò e ve lo prometto veramente di essere più costante, sto preparando nuovi contenuti eccetera eccetera Perciò comunque rimanete sintonizzati Allora oggi sono qui per parlare della partita della Cremonese giocata praticamente fino a un'ora fa Sto parlando di Sampdoria Cremonese terminata per 3-2 a favore dei Grigiorossi E quindi adesso noi andiamo al penultimo posto, ci torniamo Dopo una permanenza all'ultimo posto durata anche 2-3 settimane se non vado errato Facciamo ritorno appunto in 19 posizione a meno 10 dallo Spezia Quindi a meno 10 dalla Salvezza Perciò è una vittoria molto importante che ci proietta verso 9 partite Dove ci sarà una sostanziale lotta, almeno spero Per rimanere in Serie A Neanche che ci sarà una sostanziale lotta, dovremo tentare una rincorsa Perché comunque la montagna da scalare rimane, rimane un'impresa quella di rimanere in Serie A Però la vittoria molto importante di oggi che arriva soprattutto dopo una settimana bruttissima Dove abbiamo prima perso contro l'Atalanta in campionato e poi soprattutto in Coppa Italia contro la Fiorentina Mercoledì che appunto era la partita che ci poteva salvare la stagione Dato che comunque il percorso in campionato fino adesso tra lasciando la vittoria di oggi e la vittoria con la Roma E qualche magari pareggio contro grandi squadre come Milan ad esempio Non è stato per niente buono Mentre in Coppa Italia comunque siamo arrivati in semifinale E lì che te la giocavi invece l'abbiamo buttata via questa partita Soprattutto per colpa di un episodio anche sfortunato ma anche un po' Che si poteva evitare con la mano di AV Dove appunto abbiamo complicato di gran lunga la stagione Mi è partito pure lo sputo E praticamente siamo arrivati in una situazione pietosa Al Marassi a giocarci questa partita Però sono molto molto contento dell'atteggiamento che abbiamo avuto E' stata una partita si sofferta Anche per quello che ho visto io dato che il primo tempo non sono riuscito a vederlo Per colpa di alcuni compiti che dovevo fare Per colpa a causa Perché i compiti non hanno colpa E quindi comunque A causa di questi compiti Non ho visto i primi due gol Quello della Sampdoria e quello della Cremonese dopo Però ho saputo che ha segnato Ghiglione Il primo gol in maglia grigiorossa Dopodiché ho visto il secondo tempo Dove le due squadre comunque si sono equivalse Cioè sono state più o meno allo stesso livello Però la Sampdoria è passata in vantaggio A circa 20 minuti dalla fine Ed è stata una grande battosta Infatti a quel punto lì pensavo veramente Già io pensavo di perdere oggi Non ero per niente positivo Molto negativo Per la partita di oggi Appunto per le condizioni in cui Noi ci arrivavamo Che era quello che mi preoccupava Per la maggiore Perciò Comunque io pensavo già Di uscire con 0 punti da Marassi Poi dopo il gol del 2-1 Della Sampdoria Che non mi ricordo neanche Che ha segnato Forse a Ugello Se non vado errato Non lo so Ho detto Vabbè qua Ci siamo scavati la fossa Poi Comunque la Cremonese Ha preso un pochettino Il pallino del gioco in mano Al minuto 84 Se non vado errato È arrivato Il Ho fatto pure la rima Se non vado errato È arrivato Appunto Il Il gol Di Locosvili Quello me lo ricordo Locosvili Per il pareggio E lì comunque È cambiata la partita Perché dopo È stato un arrembaggio Da parte di tutte e due le squadre Complici anche Il lungo recupero Di 7 minuti Anche perché Francamente Di un pareggio Sia noi che la Sampdoria Non ce ne saremmo fatti Più di tanto Perché siamo Ultima e penultima Siamo a una montagna Di punti Dal Dal 17esimo posto Perciò era fondamentale Vincere Per Riaprire i giochi Tra virgolette Perché Ripeto Siamo ancora A meno 10 La salvezza Non è per niente sicura Anzi È ancora Molto Molto Complessa Però Comunque In un certo senso Per Riaccendere Qualche speranza Che si era persa Nel corso Di queste partite Dato che mancano Se non vado errato 9 partite Perché siamo Alla 29esima giornata Il campionato Finisce alla 38esima Perciò Mancano 9 partite 9 finali Da giocare Con la giusta Mentalità Quella che Fino ad ora Non siamo riusciti Quasi mai a mettere Per provare Una Clamorosa E storica Rincorsa Come un pochettino Quella della Salernitana Dello scorso anno Verso Una storica Salvezza In Serie A Comunque Allora Per quanto riguarda Il gioco Che ho visto io Dal secondo tempo in poi Abbiamo giocato Veramente bene Anche giocatori Che di solito Non giocano Molto bene Hanno giocato In maniera Buona Molto buona Come ad esempio Felix Che io ho sempre criticato E continuerò a criticare Se farà male in futuro Però Oggi Non gli si può dire niente E' stato anche decisivo Sul gol Del 3 a 2 Al 94 Dove lui Ha fatto un tiro Dal limite dell'area Colpendo Dell'area Appunto Però Dal lato di destra Colpendo il palo Poi il pallone E' capitato Tra i piedi Di Sernicola Che con un sinistro Al bacio Ragazzi Non so neanche Come ha fatto a fare Quel gol lì Alla Messi Un sinistro Alla Messi Contro l'Australia C'è un pochettino Più alto rispetto a Messi Contro l'Australia Però comunque Siamo lì Di Leonardo Sernicola Che comunque Sposto un attimo La webcam Ci ha portato Verso i tre punti Verso una vittoria Fondamentale Vitale Che adesso Cambia gli scenari Della nostra stagione Perché ci deve Dare la grinta Necessaria A tentare Una rincorsa Perché è ok Che lo Spezia E' comunque Una squadra importante Che E' più abituata Di noi Nonostante abbia Storicamente Meno stagione In Serie A Ma negli ultimi anni E' più abituata Di noi A salvarsi Perché è In Serie A Da tre anni Questo è il quarto anno In Serie A Consecutivo Per tre anni di fila Ha centrato la salvezza Però noi Dobbiamo far vedere Che se siamo arrivati In A Tramite la promozione Diretta L'anno scorso C'è un motivo E il motivo è Che noi In Serie A Ci vogliamo rimanere Vogliamo restarci E fino adesso Non siamo riusciti A dimostrarlo Facendo una stagione In campionato Aberrante Però E' il momento Di cambiare mentalità Di capire Che questa squadra Ce la può fare Che noi possiamo Rimanere in Serie A Dobbiamo dare tutto Poi se non ce la facciamo Ma diamo l'anima In queste nove Partite Io sarò comunque Orgoglioso Della stagione La Cremonese E andremo in Serie B Sicuramente Con un altro Otteggiamento Ma Anche In un'ipotetica Serie B Dell'anno prossimo Con la Cremonese Se noi ci arriviamo Con La mentalità Di una squadra Che ha lottato Fino all'ultima giornata Per rimanere In Serie A Ma poi Per fatalità Non c'è riuscita Secondo me Arriviamo Con una mentalità Corretta E possiamo Tornare su subito Mentre se Andiamo giù Da ultima In classifica Con Pochi punti Meno di 20 punti Metti Con Soltanto Due vittorie Perché comunque Due vittorie Sono molto poche Una miriade Di sconfitte E allora Lì sì Che la situazione Cambia Perché Di 20 Comunque Molto Molto Scoraggiato Rischi Di fare La fine Del crotone Del venezia Di turno Che adesso Si stanno Giocando Giù di sotto Anche Comunque La salvezza Cioè il crotone L'anno scorso È ritrocesso È ritrocesso In serie c Dopo Essere arrivato Al penultimo Posto In serie a Dopo aver fatto Una stagione Molto molto Negativa In serie a Mentre il venezia È arrivato Ultimo L'anno scorso E adesso È al sedicesimo Posto In zona Playout E si sta Giocando La salvezza Quindi è fondamentale Anche questo Scusate Per il calo Di voce Comunque Anche in prospettiva Di un'eventuale Retrocessione È molto importante Mettercela tutta In queste Ultime nove partite Quindi Allora Comunque Valeri Ottima partita Un carro armato Valeri Sernicola Vabbè Non parliamone neanche Vi ho detto Cosa ne penso Del suo gol Secondo me Sernicola Uno dei migliori Che dovrebbe avere Molto molto più spazio E viene Molto molto sottovalutato Anche dai tifosi Grigiorossi Però Comunque Anche Carnesecchi Ha fatto delle ottime parate Nonostante i due gol subiti E comunque In ogni caso Adesso sta a noi Vedere Cosa fare Nelle ultime nove partite Dobbiamo giocare sempre Con l'atteggiamento di oggi Che anche se andiamo sotto Dobbiamo sapere Che si può recuperare Non è che se uno Va Sull'1-0 Sotto Sull'1-0 Allora Bisogna chiudere Baracchi Burattini È finita la partita No Dobbiamo mettere Un altro Atteggiamento Dobbiamo Capire Che Comunque Noi Siamo Lacrimonese Siamo in serie A Non per niente Non per niente E quindi E quindi E quindi Comunque Vogliamo Rimanere in serie A Vogliamo dare tutto Per rimanere in serie A E E non Dobbiamo mollare Anche se andiamo sotto Di 1-0 Sia contro la Sampdoria Che contro il Napoli Di turno Non dobbiamo più affrontare Ma per far l'esempio Sia contro una squadra Medio-bassa Come la Sampdoria Che contro una Big Come quelle che affronteremo Prossimamente Ad esempio ci manca il Milan Se non vado errato La Juventus E La Lazio Mi pare L'Atalanta è già affrontata L'Inter pure Perciò Poi vabbè In Inter-Cremonese Io tifo Inter Comunque Come ho fatto Nelle Nelle due partite Tra Tra le mie due squadre Poi Ci manca Se non vado errato No La Fiorentina è già affrontata Comunque Le abbiamo affrontate Tutte Tranne la Lazio E Milan E Perciò Dobbiamo dare tutto Contro Qualunque avversario Qualunque avversario Appunto Anche per il fatto Che ci mancano Soltanto due Big Nelle prossime nove partite Abbiamo sette partite Da In cui dovremo fare Come minimo Come minimo Sette-otto punti Sette-otto punti E poi Giocarti Il tutto per tutto Nelle Nelle partite importanti Ma Anche se ne fai dieci Nelle Nelle sette partite Abbordabili Sarebbe una buona cosa Perché comunque Dato che dista dieci punti Lo Spezia È meglio Colmare il gap Con lo Spezia Che dobbiamo pure affrontare E io probabilmente Andrò a vedere Quella partita Spero di Non portare Sfiga Ma Di portare bene Perché Altrimenti Non lo so Non vado più Allo Zini Già che è la mia prima volta Allo Zini Probabilmente Comunque Andrò sicuramente A vedere una partita Sto pensando Di andare a vedere Proprio Cremonese Spezia La partita più importante Della Cremonese Fino Da qui alla fine Del campionato Perciò Comunque Dobbiamo Vincere contro Lo Spezia 100% Senza nessuna scusa Fare altri Sette punti Sette punti Dobbiamo arrivare A pari punti Con lo Spezia Ammesso Che Che lo Spezia Non faccia Nessun punto Perché se no Dobbiamo stare Al passo Dello Spezia Ma è importante Che noi Comunque Arriviamo All'ultima partita Contro Una delle due big Che non so Quale sarà Perché comunque Non so se giocheremo Prima con La Lazio O contro il Milan Però Comunque Dobbiamo arrivare All'ultima partita Contro una big Sapendo di essere Almeno O Di uno Due punti Sotto lo Spezia O A pari punti Con lo Spezia Questo è il piano Per rimanere in serie A Farò un video Più approfondito Sia per quanto riguarda L'Inter Sia per quanto riguarda La Cremo Per l'Inter Il piano per andare In Champions League E la Cremonese Il piano per andare In serie A Per oggi è tutto Ragazzi Se questo video post partita Di Sampdoria Cremonese Vi è piaciuto Vi invito a mettere Un bel mi piace Ad iscrivervi al canale Se ancora non l'aveste fatto A commentare Con il vostro parere Riguardo questa partita E noi ci vediamo Come sempre Ad un buon prossimo video Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti